Facciamo un passo indietro al fine settimana, andiamo a Brescia dove il nostro Davide Cordua ha intervistato il capogruppo della Lega Nord alla Camera, Giancarlo Giorgetti. A livello nazionale, oggi il Ministro Giovannini ha detto che nei giovani, i disoccupati nel mondo giovanile non è il 40% come sono usciti i dati, ma è solo l'11%, sono 650 mila. Lei è d'accordo o no? Innanzitutto Giovannini è il mio collego a saggio, quindi se lo dice lui, io ho un problema, che non è semplicemente quello dei giovani, che mi sembrano tanti, che cercano il lavoro e non lo trovano, ma c'è anche quello dei 40-50 anni che perdono il lavoro e non lo trovano più. Anche questo è un problema drammatico, a parte il fatto che chi ha un lavoro e guadagna 1.100-1.200 euro al mese con la famiglia probabilmente non riesce neanche a mantenere. Qui c'è un problema complessivo, che il lavoro sia quando c'è, come è retribuito, molto poco in proporzione rispetto al costo della vita, sia quando non c'è, oggi rende impossibile in questo Paese mantenere dei livelli di vita a cui probabilmente eravamo abituati nel passato. Questo è il dato di fondo. Come può un Paese come l'Italia ritrovare un sentino di sviluppo in grado di generare ricchezza? Adesso tocca a Giovannini, che è molto bravo, che rispetto, anzi a cui sono molto legato tanti anni, quando veniva con l'Istat, a portare un esame della situazione. Io glielo ho detto, adesso quando si passa la politica, ma si tratta più di guardare i dati e fare valutazioni, si tratta di fare delle proposte. Se sono così pochi disoccupati e giovanili, non ci sarebbero gli appelli del Presidente della Repubblica, non ci sarebbero gli appelli di tutti quanti. Temo che purtroppo siano comunque tanti quelli che stanno male, bisogna trovare delle buone idee per creare lavoro vero e non lavoro finto, perché il lavoro finto alla fine finisce e crea ulteriore disagio. Il lavoro vero qua si è sempre creato, senza lo Stato e nonostante lo Stato. Forse la ricetta sta lì, più che inventarsi qualcosa attraverso l'amministrazione pubblica. Ridare la possibilità a chi vuole lavorare di poterlo fare senza tutta la burocrazia che oggi di fatto opprime qualsiasi aspirazione, qualsiasi velleità di intraprendere e di rischiare. I grillini perdono i pezzi, due sono andati al gruppo misto, uno si è sospeso dal gruppo al Senato, lei come li giudica? Io non sono tra quelli che, quando sono andati in Parlamento, in qualche modo le ridicolizzavo. Dico che non esiste nessuna organizzazione al mondo che possa reggersi su un principio assembleare e in mancanza di un capo riconosciuto presente in grado di guidare le operazioni. Quindi non è che puoi prendere tutte le decisioni su assemblea alla sera, fa sempre l'assemblea in 120. È inevitabile, qualsiasi istituto di organizzazione o di psicologia dimostrerà che nel corso del tempo si creano i gruppuscoli, le rivalità. Quindi quando non c'è un collante ideologico comune, quando non c'è un capo riconosciuto, queste cose sono destinate inevitabilmente ad accadere. E si moltiplicheranno. Il fatto politico sarà, si moltiplicheranno in modo tale che i grillini potranno sostituire Berlusconi come appoggio al governo nel prossimo futuro. Questo non lo escluderei, perché buona parte del gruppo di Grillo ha orientamenti ideologici prossimi alla sinistra estrema o estrema sinistra, indipendentemente da quelli che li votano. Ad esempio, per tornare alla domanda che mi ha fatto sulle amministrative, io il risultato di Grillo alle amministrative non lo considero negativissimo. Per un parente appena nato che comunque ha le elezioni amministrative, che ha questi vincoli di conoscenza sul voto, guardate che non sono i pochi che hanno preso. Chi conosce la politica sa che queste sono le regole.